È un problema che c'è capitato così a caldo da poche ore e ci stiamo confrontando tra presidenti provinciali della regione per capire come affrontare questa proposta. Il presidente provinciale dell'Ordine dei Veterinari di Treviso, Alberto Ansoldi, accoglie positivamente la richiesta del presidente Zaia. La categoria, dice, è a disposizione oggi come già in primavera nel colmo della pandemia. È una proposta che apprezziamo dal punto di vista in questo momento di emergenza, qual è la pandemia che stiamo affrontando, che venga anche chiesto l'aiuto della nostra categoria in quanto operatori sanitari. Il fatto di essere coinvolti in questo momento, sicuramente come lo siamo stati l'anno scorso, quando c'era stata chiesta la disponibilità per i respiratori. Il problema è che ci sono, all'ilà di quelle che sono le problematiche organizzative, c'è un problema grosso, incontrare un abuso di professione. Certo, noi abbiamo delle competenze, abbiamo una responsabilità professionale e questo è un ruolo che non ci compete. In caso di imprevisto, se nel corso del tampone si dovesse verificare una lesione, piccola o grande che sia, con quali strumenti il professionista potrebbe risponderne? Una posizione che è anche quella dell'Ordine dei Veterinari del Veneto e alla quale difficilmente, secondo Ansoldi, si potrà trovare soluzione. Questo è il nodo che bisogna sciogliere e non credo che ci possa essere, anche in questo momento così grave di emergenza pandemica, che stiamo attraversando una qualche legge regionale che possa sviare, ovviare a questo problema. La questione sarà sviscerata nel corso del confronto, che ci dovrà essere tra Regione, Ordine dei Veterinari e Sindacati. Poi ripeto, la nostra disponibilità all'aiuto assolutamente è sincero e sicuramente non è da mettere in dubbio.